L'obiettivo principale dell'incontro è non certamente quello né di sostituirsi né di cavallarsi alle iniziative dell'assessorato competente dell'assessore Andrea Maria Antonini della Giunta, ma di favorire la comunicazione del bando, mettere a confronto e sentire tutti i soggetti interessati, i soggetti accademici, l'università, i soggetti istituzionali, i comuni, i soggetti privati, in modo tale che ci sia una maggiore applicazione concretamente del bando e chi è in regione senta quali sono le difficoltà per poter partecipare al bando stesso. A chi è destinato in particolare questo nuovo bando regionale? Principalmente ovviamente alle start-up sotto due profili, come è stato detto nell'incontro, anche se proprio questo è uno di quei quesiti che va risolto fra fascia A e fascia B, cioè fra start-up che sono incubatrici, quindi iniziative che partono diciamo ex novo e start-up che sono invece acceleratrici, quindi di un consolidamento dell'iniziativa della start-up stessa destinato o a nuove e più soggetti o a un mercato più ampio, quindi un consolidamento che ha necessità di un intervento di natura regionale, quindi di natura pubblica, ma che ha bisogno anche di una procedura particolare.